Ecco una rassegna di eventi in programma a novembre 2019 a Firenze e area metropolitana fiorentina. Le segnalazioni sono tratte da Firenze e Turismo, il sito ufficiale del turismo di città metropolitana e comune di Firenze. Le mostre, fino al 15 dicembre al museo di Santa Maria Novella, la botanica di Leonardo, mostra che approfondisce le riflessioni dell'artista sulle forme e sulle strutture del mondo vegetale. Fino al 12 gennaio Palazzo Strozzi accoglie un'esposizione di Natalia Gonciarova, grande artista russa e figura centrale dell'avanguardia della prima metà del ventesimo secolo. Sempre a Firenze, la chiesa di Santo Stefano al Ponte ospita fino al primo marzo la mostra multimediale Inside Magritte, dedicata al grande maestro del surrealismo. A Certaldo proseguono fino al 9 gennaio le celebrazioni per la beata Giulia dell'Arena, con un percorso espositivo diffuso su tutto il comune. Ricordiamo che ogni lunedì per tutto il 2019 i giovani tra i 18 e 25 anni, cittadini della comunità europea, avranno l'ingresso gratuito a Museo di Palazzo Vecchio, Museo 900, Museo Stefano Bardini, Cappella Brancacci e Fondazione Salvatore Romano. Avvicinandosi al Natale, il 26 novembre in Piazza Santa Croce torna il tradizionale appuntamento con il mercato tedesco, che riempirà di colori e profumi il centro di Firenze fino al 22 dicembre. Per quanto riguarda il gusto, con l'olio padrone del mese, il 16 e 17 novembre a Pontassieve ci sarà la festa dell'olio nuovo, il 17 a San Casciano la festa della fettunta e dell'olio nuovo, festa dell'olio anche a Vinci il 9 e il 10. Il 16 e il 17 a Certaldo è in programma la festa della cioccolata, dal 15 al 17 a Borgo San Lorenzo si svolgerà la mostra mercato del tartufo del Mugello. Il prezioso tubero sarà protagonista anche dei due primi fine settimana del mese a Scarperia. Chiudiamo con lo sport, domenica 24 novembre torna la Firenze Marathon con la sua 36esima edizione che attirerà migliaia di partecipanti da tutto il mondo.